a questo circo per l'appunto non voto e invece secondo me quel poco che ti resta da fare è che mentre ti dai da fare per costruire una società diversa, una scuola diversa e dei circuiti alimentari diversi e tutto quello che vuoi, contemporaneamente cerca di dare anche il tuo piccolo contributo almeno a mettere la sabbia nell'ingranaggio, a mandare là delle persone che dicano no questa roba qui voi non la potete fare perché perché perché, magari parla e poi nessuno lo ascolta però intanto una volta, due volte, tre volte io posso fare l'esempio e mi fa piacere ripeterlo che per tre anni la commissione medico-cientifica indipendente che ha presiduto il dottor Donzelli aveva chiesto di essere ricevuta dal CTS, dal Ministero della Sanità, anche a porte chiuse per non fare clamore, per discutere su quello che loro chiamano la medicina evidence based, cioè basata sull'evidenza e non è mai successo. Da neanche 20 giorni il nuovo prefetto per la prevenzione che è il professor Vaia dello Spallanzani che è il principale consulente dell'esperanza, ha ricevuto il dottor Donzelli e i suoi collaboratori, hanno già bloccato un trattato pandemico italiano che era già peggio di quello dell'OMS che era stato fatto dai funzionari precedenti e che nessuno se ne stava accorgendo. Allora vedete che butta cava di lapide ma a forza di fare questa battaglia solitaria finalmente questo singolo professore è stato ricevuto e ha dato i consigli giusti e hanno bloccato una roba gravissima. Allora non potete dire no, tanto quelli comandano fanno quello che vogliono, se non ti metti anche a cercare di entrare a mettere un granello di sabbia nell'ingranaggio e mettere un piede nella porta nella stanza del potere finirà che ciascuno si fa la sua stizza e dice vabbè basta avete rotto le balle, io sto per conto mio, io non sono con voi, eccetera, poi però è una forma di masturbazione, posso dire la parolaccia alla fine che poi intergo tecnico, però nessuno ti vede e tu sei contento e però intanto poi faranno veramente quello che vogliono se tu non sei andato a votare, io insisto, fate la fatica, scegliete un candidato che vi piace e andate a votare. Grazie Alberto Contri per questa serie di riflessioni importanti e naturalmente io invito tutti quanti quantomeno a riflettere sulle cose che ci siamo detti e poi ognuno per carità farà le proprie scelte. Grazie davvero come sempre. Buonasera, buonasera a tutti. Stato a tutti, grazie. Alla prossima.